A Vigna, frazione di San Genesio, ad una ventina di chilometri da Bolzano. Tra le casette in stile altoatesino troviamo uno dei tipici negozi ancora presenti nei paesi altoatesini. La provincia di Bolzano si impegna a garantire la sopravvivenza di esercizi di così piccole dimensioni che però rappresentano un valore aggiunto per la vita dell'intera collettività. Tra il 2014 e il 2018 sono state erogate agevolazioni per 3 milioni e 700 mila euro a favore di 86 negozi a tutela del commercio di vicinato. Per supportare questa attività di fondamentale importanza per i cittadini delle zone periferiche, la Giunta Provinciale adotta un approccio globale a 360 gradi. La politica di sostegno ai negozi di vicinato fa parte della nostra politica generale per il mondo rurale. Bisogna garantire la qualità di vita, i posti di lavoro ma anche i servizi pubblici, le infrastrutture al mondo rurale. Così evitiamo lo spopolamento che caratterizza tante altre regioni alpine. Fin d'ora ci siamo riusciti, grazie alla politica anche delle giunte precedenti. Con questa nuova iniziativa abbiamo non soltanto permesso a più di 80 negozi di continuare la loro attività. Ci sono state anche riaperture in zone dove i negozi non c'erano più. Per l'edizione 2018 sono state ammesse all'agevolazione 87 richieste da tutta la provincia per un importo di 864.500 euro. L'attività svolta dai negozi di vicinato è di fondamentale importanza per la popolazione locale. Ne è infatti consapevole Armin Lanznaster, titolare del negozio fondato nel 1909 e aggiudicatario dell'agevolazione anche per il 2018. Nella nostra attività offriamo alimentari, bibite, giocattoli, scuola, merce elettronica, di tutto un po'. Diamo servizi anche di trasporto a casa, servizi postali. I contovuti ci aiutano tantissimo. Noi quattro anni fa abbiamo rinnovato tutto il negozio sapendo che riceviamo i contovuti nel futuro altrimenti non avremo rinnovato il negozio. Alla luce dell'esperienza dell'edizione 2017, quest'anno la Giunta ha modificato i criteri di applicazione introducendo per la prima volta una graduatoria separata dedicata esclusivamente alle attività del settore commercio e servizi cui viene destinata la somma di un milione di euro.